Componente allenatori, presente anche qui questo incontro tra i vertici regionali del calcio elettantistico calabrese e le società. Il ruolo dell'allenatore è importantissimo, come sempre, anche in questo caso in cui si è parlato anche di, in certi versi, di violenza, usiamo questa parola. Non vorremmo utilizzarla, ma bisogna purtroppo utilizzarla. Credo di averlo detto durante la carmesse serale, che poi alla fine così non è stato. È stato un bel dialogo con la gente di Locri, con la città di Locri, con i vertici politici, ma anche i vertici istituzionali della Calabria. Ci siamo detti che la componente degli allenatori è fondamentale, anzi è basilare. Ho fatto un esempio lampante per la Villese. Fino a due anni fa era in terza categoria, non c'era nessun allenatore tesserato. La Villese oggi ha sei allenatori tesserato. Sarà pure merito mio, insomma, mi permetto di dirlo per una volta tanto, pecco di immodestia. Ebbene, qualcuno ha detto che bisogna usare noi. Noi allenatori ci siamo. Il problema è che spesso questa figura viene avversata, viene vista male, viene sostituita inopinatamente da maneggioni del calcio, da gente che non ha a che vedere con il calcio. Io penso che uno che fa l'allenatore e che ha fatto un corso per diventare allenatore alla base di tutto ha una grande passione. Poi c'è chi riesce a farlo anche e guadagnare pure bene. Ma la maggior parte degli allenatori, in particolare in Calabria e in questa zona anche, stasera si è emerso chiaramente, in questa zona c'è tanta gente che lo fa per passione, per volontarietà. Addirittura ho sentito parlare in questa zona che ci sono società che portano lo sponsor di Don Puglisi. La cosa che mi ha lasciato molto soddisfatto è che ci sono addirittura società che nella maglietta hanno i nomi delle persone vittime di mafia. A questa gente bisognerebbe fargli veramente una targa ricordo per questo amore che hanno non solo per la terra e per il calcio e per il mondo degli allenatori, ma anche per la gente che non si deve dimenticare perché magari è stata assassinata. Allora io penso che gli allenatori sono una componente, così come lo sono gli albici, dicevo prima, e in questa città c'è la fortuna di avere l'espressione massima, il vertice degli albici è Stefano Archinà, con il quale, ho detto durante la conferenza, in sinergia abbiamo anche promosso l'allenatore dell'anno quest'anno. L'allenatore dell'anno è stata una sinergia tra la componente allenatore e la componente albici che ha fatto sì che l'albici odesse il voto all'allenatore. Ovviamente ha dato il voto all'allenatore che come fair play, come capacità di porsi, come capacità di rappresentarsi sia verso l'albici che verso le società, i giocatori, il pubblico si è comportato bene. Alla fine i risultati vengono solo se c'è questa sinergia tra le varie componenti, così come con la federazione. Alla federazione abbiamo detto stasera, glielo ho detto a chiare note anche al mio amico presidente, ho detto che è necessario che si parta dalla terza categoria, perché proprio in terza categoria ci sono gli episodi più antipatici e solo un allenatore può mitigare aspetti negativi che possono emergere durante una gara di terza categoria che è il livello iniziale, dove molto spesso vi milita gente che magari ha dato tutto al calcio e molte volte si può togliere tra virgolette una soddisfazione di tirare uno schiaffo all'albici che non fa bene a nessuno. Allora da lì bisogna partire e iniziare a fare anche lì educazione. L'allenatore è una persona che deve rappresentare la federazione in campo sotto l'aspetto tecnico e dare quell'esempio ai propri giocatori e intervenire magari qualora dovesse succedere qualche cosa di poco bello, che però alla fine stiamo parlando di una partita di terza categoria. Che cosa parliamo? Quindi io mi auguro che si continui in questo trend di fare corsi allenatori come li stiamo facendo, ma se si fanno i corsi, ho detto a Mirarchi stasera, se si fanno i corsi è giusto che la federazione controlli se le squadre hanno gli allenatori in campo, perché è fondamentale che le squadre ma anche gli arbitri controllino che ogni società, se è obbligatorio, abbia l'allenatore in campo, perché l'allenatore è simbolo di garanzia in questo caso per gli arbitri e per la federazione e quindi avremo sicuramente sempre meno incidenti. Poi saremo i primi, se c'è qualche allenatore che non si comporta per come dice il suo status, per come è la sua forma mentis, che deve essere quella di essere un educatore, prima di tutto un educatore e poi un allenatore, allora saremo i primi a invocare provvedimenti esemplari contro quegli allenatori che si comportano non in maniera adeguata, non facciamo solo le vertenze agli allenatori. Noi agli allenatori li vogliamo, se sbagliano, saremmo i primi a dire no, dovete uscire dalla nostra famiglia, perché noi nella nostra famiglia vogliamo gente per bene, vogliamo educatori, non vogliamo violenti, vogliamo persone che sappiano vincere, che sappiano insegnare il calcio, ma che principalmente sappiano educare i ragazzi a stare in campo. E non sempre, capita come negli arbitri, come nei calciatori, tutti hanno questa plomb, non tutti hanno questa capacità di potersi rapportare. E' chiaro che in tutte le professioni ci può essere anche tra di noi qualche pecora nera, e noi quella la isoleremo. Dal punto di vista regolamentare comunque sto notando, mi pare di capire, un pugno duro, un maggiore controllo da parte dell'AIEC per quanto riguarda le panchine, diciamo, irregolari. Ma guarda... Nel massimo torneo regionale. Sì, nel massimo torneo regionale sono evidenti, lì non c'è bisogno di andare lì. Il problema grosso emerge invece in queste categorie, dove non si riesce a far capire ai presidenti di società quanto sia fondamentale la figura dell'allenatore. Allora il problema è proprio lì, perché in eccellenza sei obbligato a prendere l'allenatore, ne va via uno, ce ne sono dieci dietro la porta che già stanno aspettando di poter essere... D'altronde è la vita... Ci sono anche dei casi di allenatori che magari non potrebbero allenare una seconda squadra nello stesso anno. Assolutamente no, questi vanno perseguiti. Il punto qual è? Noi siamo un'associazione di allenatori. Non siamo un'associazione al cui interno ci sta la CIA o il KGB. Non facciamo i poliziotti, noi facciamo gli allenatori. Allora è antipatico che si possa pensare che ci siano degli allenatori che perseguono altri allenatori. Il punto è che se però è evidente, emerge a chiare note, ma spesso anche in maniera del tutto inopinata, perché ci sono certi allenatori che non sanno neanche quali sono le regole del settore tecnico. Allora la prima cosa dovrebbero leggersi qual è il regolamento, qual è lo status di allenatore. Allora tutti sanno che se tu vieni esonerato, ti dimetti nel corso di quella stagione, non puoi allenare nessuno. Allora che cosa vai a fare? Ma la cosa grave qual è? Che poi vanno a fare le interviste. Allora a quel punto siamo costretti a perseguirli, ma non perché noi andiamo a fare gli investigatori privati. Non ci interessa se un allenatore non conosce le regole della sua associazione. Per noi già non va bene. Per noi può andare via da subito, perché lui deve sapere dove sta, con chi sta e perché ci sta. Allora se quelle sono le regole, lui deve spiegare agli altri le regole. Se viene esonerato, non può andare ad allenare un'altra squadra. È chiaro questo, è lampante, è lapalissiano. E poi magari non solo, va a allenare un'altra squadra e poi magari ci chiede la partenza per la prima squadra. Allora questa è una cosa che non ci sta. E noi non ci stiamo e sono delle regole che ovviamente bisogna fare rispettare. Ripeto, non siamo un organo di polizia inquirente o un organo che vuole reprimere chi non si comporta secondo le regole della Federazione Italiana Gioco Calcio. È chiaro che comunque siamo attenti, però siamo un'associazione. Non siamo una federazione con degli organismi così importanti come può essere la FIGC che ha l'ufficio indagio, l'ufficio noi. Non siamo un ufficio indagio, né un ufficio inquirente, né un ufficio che vuole a tutti i corsi perseguire chi non si comporta bene. Però siete presenti sul territorio come giusto che sia. Noi speriamo di essere sempre più presenti perché è importante che ci sia sempre un ricambio generazionale. Io non sono giovane, io sono uno dei vecchi dell'Associazione Italiana Italiana. Mi fa piacere, ho sempre l'entusiasmo del primo giorno, poter stare ancora con un gruppo di giovani. A livello regionale noi abbiamo messo una persona che è sotto i 30 anni. Domenica, giorno 26, ne ha fatti 40. Ma lui è diventato presidente a 38 anni. Allora, a noi fa piacere questo che Raffaele Peato, che è un giovane, possa stare al vertice della federazione. Noi gli possiamo dare una mano per cercare di far sempre meglio, partendo dagli errori del passato. E gli errori passati sono stati tanti. E' chiaro che comunque noi siamo sempre lì, nella speranza che vengano i giovani. Io stasera avevo portato con me l'allenatore del Blanca Leone, Francesco Pagliani, che ha detto guarda sono solo, perché non vieni con me, perché è stato un mio allievo calciatore. Poi per un motivo che è sorto lungo la strada e ho dovuto tornare indietro. Ma perché noi dobbiamo dare l'esempio agli altri. Lo volevo portare qui proprio per dire chi siamo noi e che ci facciamo all'interno della federazione. Allora è importante che ci si veda sempre, ci si confronti. E non è facile, perché alla pari degli albici tutto quello che facciamo lo facciamo per puro volontariato. Qua non ci sono né ingatti né soldi da guadagnare, c'è solo da spendere.